superanima 7 la scuola celeste di jane roberts capitolo 13 il magico dipinto di joseph e la vendetta di jonathan joseph fissò la tela stava dipingendo un cortile rivestito di piastrelle una volta terminato tutte le piastrelle sarebbero state perfette decorate una per una e luccicanti e che smalti avrebbe usato ridacchiava quasi dalla delizia e che dire delle torreggianti pareti delle rupi incredibilmente alte eppure così appropriate per certi versi la scena nella sua mente era così divida che nel tentativo di coglierla joseph provava un misto di tormento ed esaltazione in effetti era così pieno di ispirazione che si sentiva trasformato solo pochi giorni prima l'unica cosa a cui riusciva a pensare del cibo ma ormai era l'ultimo dei suoi pensieri due volte al giorno jonathan gli lasciava un vassoio ai piedi della porta a volte non era nemmeno stato toccato quando veniva a riprenderselo al pensiero di jonathan joseph si fece cupo e fissò la finestra aveva supplicato un sacco di volte di togliere le assi almeno dalla parte alta della finestra affinché potesse avere una luce decente le lanterne non bastavano e poi il cortile piastrellato era una scena esterna joseph non aveva la possibilità di riprodurre quella luce in condizioni del genere e se avesse tolto le tavole cosa avrebbe potuto fargli jonathan il vetro si sarebbe certamente rotto perché sarebbe stato costretto a fare il lavoro dall'interno joseph tornò al suo dipinto dimenticandosi per un po' tutto il resto poi si allontanò ancora una volta per esaminarlo era evidente la luce proprio non andava in un impeto di sincero sdegno lanciò un potente urlo ruppe con la sedia il vetro superiore della finestra e assestò dei colpi alle tavole che erano state inchiodate all'esterno perfino il rumore che fece gli diede soddisfazione ben vista pensò godendosi quell'accesso di energia e rise mentre la luce entrava inondando la stanza ma proprio in quel momento sentì dei passi pesanti che si affrettavano su per le scale qualche istante dopo entrò jonathan che si mise immediatamente ad urlare alla vista del danno sul pavimento c'erano vetri rotti dappertutto jonathan si scagliò contro joseph imprecando il vetro il bellissimo costoso vetro prese ad urlare lo pagherò certo che pagherò ma non ce la faccio a lavorare con quella misera luce gridò joseph stroncandolo jonathan era talmente sconvolto che alla fine si mise in disparte a fissare i vetri vi avevo avvertito disse stavolta con voce tremendamente calma questa volta avete passato il limite joseph tornò al suo dipinto pagherò il vetro ridò con voce stanca vi ho detto che ho bisogno di una luce decente prima che sia inverno venderò questi quadri a un buon prezzo e voi riavrete la vostra preziosa finestra ora lasciatemi lavorare voi siete pazzo pazzo aspettate che mio padre torni dai campi non abbiamo intenzione di comprare altri vetri per le vostre finestre bene disse joseph prise di cuore e tornò al suo lavoro lasciando jonathan a borbottare e inveire finché non se ne andò finalmente sbattendo la porta dietro di sé quando jonathan se ne fu andato joseph abbandonò il cavalletto e si mise a danzare nella luce del sole che entrava dalle finestre aperte piroettando goffamente e in tondo come un orso al circo quindi tornò alla sua tela la cosa che più gli importava in quel momento erano i suoi quadri non era mai stato così ispirato in vita sua lavorare a tal punto quando hai l'ispirazione non ti occorre disciplina pensò allegramente e del resto l'ispirazione aveva già in sé la sua disciplina il dipinto giunse come per magia dal nulla o da qualche luogo dei sogni o dell'immaginazione il pomeriggio trascorse così in fretta che quando jonathan tornò con suo padre joseph credeva che fossero trascorsi solo pochi istanti si era accorto del fastidioso rumore nell'atrio ma senza prestarvi molta attenzione di nuovo quei passi e in quel mentre jonathan ed elgren entravano nella stanza il vecchio ansimava e jonathan lanciò un grido esultante pieno di livore joseph si voltò appena e li guardò con tutta la fierezza di cui poteva disporre vi ho avvertiti che avevo bisogno di luce ho implorato ma avete forse tolto le tavole no perciò è colpa vostra per essere stati così sciocchi te lo dicevo è pazzo disse jonathan con una certa soggezione elgren se ne stava là tondo grasso e serio c'è qualcosa qui che non capiamo disse lentamente un uomo non si comporta in questo modo non un uomo normale infatti lui è elgren fece un cenno a suo figlio di star calmo una buona volta la distruzione di un vetro perfetto disse solo le case più belle possono permettersi finestre simili le finestre sono l'orgoglio l'orgoglio si interruppe è demoniaco un danno inutile e pensare che mi eravate simpatico malgrado tutto mi eravate simpatico avete un bel modo di dimostrarlo urlò joseph facendosi rosso in viso rinchiudendomi per il vostro bene per rispettare il vostro accordo era solo una questione di giustizia corin beccò jonathan abbiamo ripreso a darvi da mangiare quando avete iniziato a dipingere anche se non avete fatto alcun progresso col nostro quadro disse elgren come se gli si spezzasse il cuore grazie grazie vi sono riconoscente altro che tuono joseph ed eccolo là il vostro quadro è incominciato cominciato mostrò con un gesto teatrale l'unico banale mediocre dipinto della stanza il sottofondo è stato dato sto solo aspettando che si asciughi jonathan si fece avanti e toccò il quadro mi dà l'impressione che sia abbastanza asciutto disse solo messo da parte per fare questi quadri strampalati per farci dispetto il vetro della finestra esclamò elgren con un profondo sospiro possiamo di nuovo smettere di darvi da mangiare e se non finite il nostro quadro vuol dire che prendete il cibo che vi diamo con l'inganno non mi interessa di mangiare un bel niente disse joseph i suoi ardenti occhi scuri si riempirono di vehemenza dipingerò quello che voglio e mangerò i cuscini se vi sarò costretto mangiare i cuscini te l'ho detto è pazzo disse jonathan qui c'è ancora qualcosa che non capiamo disse elgren a suo figlio perciò chiudi il becco e lasciami pensare joseph sbuffò jonathan prese a camminare infuriato per la stanza elgren squadrò joseph potremmo anche non esistere per voi disse infine tanto non ci considerate affatto come se la nostra presenza annuocesse a voi e i vostri quadri già proprio non esistiamo per voi si fermò colpito addirittura spaventato dalle sue stesse parole ah ma io voglio solo lavorare solo dipingere ribatte joseph non comprendendo affatto avrete il vostro quadro lo farò vedete è incominciato pagherò il vostro vetro venderò alcuni di questi quadri e pagherò quest'uomo è posseduto urlò jonathan proprio così posseduto da dei balordi come voi ridò joseph di rimando ma un sincero turbamento lo attanagliava qualcosa nella faccia di elgren gli destava preoccupazione ed un tratto si rese conto di aver bisogno di joseph supponiamo che lo avessero cacciato e lui avesse perso il suo spazio per lavorare in quel momento lui dipendeva da loro tutta un tratto si sentì minacciato minacciato sul serio sarebbe bastato un turbamento qualunque e la sua ispirazione sarebbe potuta svanire chissà forse per sempre cercò di sorridere amabilmente ma sentiva che tutti i muscoli del viso si contraevano per lo sforzo lasciatemi dipingere in pace avrete tutti i bei quadri che vorrete quello della casa e anche i ritratti joseph arrossì dalla rabbia sentendosi abietto miserabile sorpreso dal mutare delle circostanze si sforzava di considerare elgren come una persona ma ciò che riusciva a vedere era solo una pomposa grassa ridicola caricatura d'uomo il che era vero penso con rabbia non tormentate mi disse esasperato torneremo disse elgren senz'altro senz'altro rispose joseph quando i due se ne furono andati si mise a guardare biecamente nel vuoto pensò che elgren lo stesse prendendo sul serio ma in un modo per lui incomprensibile e ormai l'unica cosa che desiderava era starsene in quella stanza per poter dipingere mentre appena una settimana prima voleva soltanto fuggire per qualche ragione questo fatto aveva dato agli osenthof un potere su di lui che nessuno aveva mai avuto era prigioniero della sua stessa ispirazione e dove se n'era andata la sua libertà d'un tratto si rese conto di non aver nessuna voglia di uscire voleva solo dipingere stare al passo con le idee che per la prima volta nella sua vita gli arrivavano così di getto quelle idee lo avevano affascinato ma lo avevano pure spaventato giungendo a quanto pare dal nulla bah disse joseph ad alta voce se ci pensi potresti anche impazzire tornò al lavoro nel giro di pochi minuti dimenticò ogni cosa tranne il dipinto sul cavalletto quando elgren e jonathan tornarono era già di imbrunire e joseph avvertì all'istante un cambiamento nel loro modo di fare tanto per cominciare non indossavano abiti da lavoro erano vestiti come se dovessero fare una visita c'era inoltre una strana cerimoniosità nel modo in cui entrarono nella stanza tranquillamente senza sbraitare o urlargli contro con una certa solennità joseph dipingeva ancora cercando di sfruttare fino in fondo la luce del giorno e disse quindi con impazienza non potete aspettare è il mio primo giorno di luce non posso almeno sfruttarlo per intero aspetteremo disse elgren come se joseph fosse un cordiale sconosciuto o un possibile acquirente venuto per esaminare i quadri accanto a lui jonathan annui con un ampio sorriso joseph era sul chi vive se jonathan sorrideva qualcosa in effetti non andava joseph cominciò a pulire i pennelli nella trementina ma a un certo punto i baffi gli si rizzarono era sempre più scarso di provviste e dove ne avrebbe procurate delle altre possiamo sederci chiese elgren la cortese domanda allarmò joseph a tal punto che si girò troppo di scatto e fece cadere a terra la tavolozza la prendo io disse jonathan raccattandola e imbrattandosi tutte le mani di colore alla vista di jonathan che gli prestava aiuto joseph si lasciò cadere pesantemente sulla sponda del letto dopodiché alzò le mani e disse va bene mi arrendo cosa state cercando di fare elgren si schiarì la gola noi abbiamo fatto una riunione di famiglia su di voi esordì a gemette joseph no no abbiamo certe questioni da discutere piuttosto francamente assieme a voi ma a vostro vantaggio joseph voleva gridare a mio vantaggio quando è che vi siete interessati del mio bene ma qualcosa gli disse di restare calmo si guardò le mani e increspò le labbra devono volere qualcosa pensò astutamente altrimenti non sarebbero così cortesi meglio dunque star calmi e farglielo sputar fuori sì una riunione di famiglia disse jonathan silenzio joseph si rifiutava di parlare elgren incomincia il suo discorso sporgendosi in avanti con sollecitudine con tutto il rispetto voi avete rotto il nostro vetro e non avete modo di ripagarci per il danno non potete vendere abbastanza quadri adesso per pagare un vetro così costoso e ci dovete almeno un ritratto di famiglia è un quadro della casa per il vitto e l'alloggio di questi mesi eppure lavorate ad altri dipinti che a quanto sembra prendete molto seriamente e allora e con ciò disse joseph impaziente lo stavano facendo impazzire con quella loro cortesia il problema era cosa fare comportandoci tuttavia in modo onorevole disse elgren schiaffarvi in prigione non avrebbe risolto il problema anche se l'abbiamo preso in considerazione perché in quel caso non ci avreste mai pagato e non avremmo mai avuto neppure i nostri quadri non darvi da mangiare potrebbe rendervi talmente deboli da non avere la possibilità di pagare il vetro cacciarvi di casa vi lascerebbe impunito e così abbiamo pensato che anche voi forse avreste piacere di sistemare la faccenda onde chiarire la vostra situazione potreste pertanto continuare a dipingere senza problemi si affrettò a dire jonathan joseph si accigliò dunque questa vostra idea di qualunque cosa si tratti è di jonathan è lui che si preoccupa del mio stato d'animo disse urlando jonathan sorrise compiaciuto elgren tese le mani abbiamo dei problemi come qualunque famiglia voi potete aiutarci a risolverne uno e io voglio solo dipingere lo interruppe joseph volete arrivare al punto smettetela di torturarmi voi piacete a bianca disse elgren ma lo disse così in fretta e categoricamente che joseph scattò in avanti cosa sapevano elgren e jonathan il fratello più piccolo aveva fatto la spia joseph si sentì avvampare non siate imbarazzato disse elgren le piacete questo è un fatto che dobbiamo prendere in considerazione non ci sono molti giovanotti qui in giro i contadini andrebbero bene ma lei pensa che voi siate diverso romantico forse sapete come sono le donne joseph non aveva il coraggio di replicare non gli piaceva il sorriso sulla faccia di jonathan o l'aria di assoluta onestà di elgren è tempo per lei di prendere marito disse jonathan guardando dappertutto tranne joseph bianca pensa che sareste l'uomo adatto per lei aggiunse elgren voi capite non sono molti giovanotti che le piacciono da queste parti le occasioni sono limitate nelle città sarebbe diverso voi mi odiate imprecò joseph jonathan mi odia vostra moglie non mi può soffrire credete che mi sposerei in una famiglia del genere siete tutti ammattiti joseph salto su infuriato confuso mettendosi a farfugliare dalla rabbia eppure era stupito di se stesso sotto sotto una parte di lui stava pensando freddamente un posto garantito dove vivere e lavorare compresa una donna quando ne aveva voglia avrebbero dovuto comprargli pure l'occorrente per dipingere altrimenti non avrebbe accettato sbalordito da queste considerazioni gridò no no in nessun caso prenderò in considerazione la vostra proposta no la mia risposta è no queste cose sono delicate pensateci disse elgren io l'ho detto bianca che questa sarebbe stata la vostra prima reazione prima e ultima e definitiva urlo joseph si alzò e si mise a camminare su e giù per la stanza se non accettate noi confischiamo quadri provviste e vi sbattiamo in prigione disse jonathan con fare gentile joseph si fermò di botto ma questo è un ricatto e poi sarei un marito miserabile dovreste darci una mano nei campi al mattino oppure sbrigare le faccende domestiche mattutine il resto del tempo potreste dipingere disse elgren il vostro dipinto mi ha fatto cambiare opinione su di voi in questo periodo ci avete lavorato assiduamente di consuma questo è positivo significa che alla fin fine venderete i vostri quadri un bravo artista in famiglia si interruppe per un istante poi soggiunse potreste far quadri anche per i miei parenti è una gran bella cosa ed è molto culturale non uscireste mai più dalla prigione dei debitori disse jonathan cercate di capire il nostro punto di vista abbiamo un investimento in voi ma è giusto che si arrivi ad una certa intesa e avreste questa stanza come studio ho l'impressione che fareste proprio un buon affare se per voi la pittura è così importante joseph aveva lo sguardo fisso pensava che jonathan fosse più scaltro di quanto non lo desse a intendere elgren si alzò solennemente sempre con quell'insolita cerimoniosità e disse ecco dunque come stanno le cose noi vi abbiamo fatto conoscere la nostra proposta pensateci torneremo domani per la vostra risposta joseph non rispose era stata bianca quella strega ad essere la responsabile della sua cattura del fatto che l'avessero trascinato indietro ora non le restava altro che raccontare il suo padre le loro bravate joseph aveva la certezza che elgren non ne fosse al corrente ma jonathan forse sì elgren credeva che sua figlia fosse un gioiello non che bianca avesse alcunché di sbagliato penso joseph con una certa irritazione solo che lui non aveva intenzione di sposare nessuno joseph se ne andarono joseph guardò le finestre grazie al cielo non avevano più le tavole e si ricordò che ben presto la campagna sarebbe stata sgombra le fiere sarebbero incominciate tra un mese o giù di lì nella sua immaginazione si vide libero e spigliato a fare scenette a buon mercato e dormire in freschi e fragranti fianili ma l'occhio gli cadde sui suoi quadri incompiuti doveva finirli e gli serviva un posto tranquillo per lavorare ma che ne era stato della sua libertà torno a cupo al cavalletto non aveva intenzione di sposare bianca quadri o no e ogni tanto mentre parlava tra sé con tale devemenza gli riefioravano alla mente delle immagini ma senza che le avesse in qualche modo evocate bianca che gli lasciava un vassoio di cibo mentre lui lavorava bianca come modella che assumeva ogni posa possibile immaginabile e negli anni a venire joseph l'artista proprietario di una grande tenuta ricco e prospero mentre i grassi figli si occupavano di tutto il lavoro nei campi quei campi che lui e bianca avevano in qualche modo ereditato faresti meglio saltar giù dalla finestra e andartene si disse allarmato da questi pensieri dotati apparentemente di vita propria che si infiammavano in modo così allettante gli era stata offerta un'opportunità senza pari per lavorare in pace oppure si trovava nel mortale pericolo di perdere tutta la sua indipendenza o tutte e due le cose o nessuna joseph gettò a terra il pennello con un gemito e si mise a fissare la parete